Presentati per hobby Il tuo ultimo status di facebook? Diciamo che su facebook l'ultima cosa che ho messo è stato ieri che sono andato a fare un flash mob a Mestre con Etienne per un video che dopo aver messo su youtube un flash mob, molto bello, molto grande Se ne avessi la possibilità cosa ti piacerebbe fare? Vabbè, ballare tutta la vita ballare ora resisti l'abbiamo negate l'abbiamo l'abbiamo insieme a.k.a lil' ma nella mi c pensava c es Grazie. Fai un appello al pubblico per farti votare. E beh, votatemi, scusate. Votatemi.